Lo scontro tra i candidati alla carica di sindaco per la città di Benevento con il passare dei giorni si fa sempre più aspro, anche a livello politico. Ieri a Benevento il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello per la presentazione della lista Forza Benevento, nella quale ci sono i candidati consiglieri di riferimento dell'area di Forza Italia ma senza simbolo, in appoggio a Clemente Mastella. La volta scorsa, cinque anni fa, sono stati vicino a me, quindi da parte sostanziale di Forza Italia, stavolta lo fanno senza il segno tipico di Forza Italia perché io ho puntato ad una forma di allargamento di collegamento all'interno della maggioranza, della mia maggioranza e delle mie liste che consentisse chiunque di esprimersi politicamente come vogliono, però puntare al bene della città. Qui sono coloro i quali sono orientati a sinistra, coloro i quali sono orientati al centro, nessuno di destra. Il sindaco di Benevento, nella tarda serata di ieri, ha intanto inaugurato un nuovo impianto di pubblica illuminazione in una contrada della città e non ha risparmiato stoccate all'amministrazione che era stata guidata da Fausto Pipe. La disamministrazione totale per tantissimi aspetti è data moltissimi anni, diciamo, delle cose anche ai limiti dell'irresponsabilità sul piano amministrativo. Soddisfatti intanto i cittadini che però chiedono attenzione costante per le zone rurali. Ha ascoltato le nostre problematiche della zona, ce ne sono ancora tante di problematiche da risolvere, per ora abbiamo messo l'illuminazione, hanno tagliato un albero che per anni dava problemi, era molto pericoloso e prospettiamo sempre migliorie.